Carissimi amici e amiche, benvenute sul mio giovanissimo canale. Colgo l'occasione per augurarvi un splendido 2018 pieno di soddisfazioni ed allegria. Oggi voglio parlare di un capo che amo tantissimo, l'Ecopelliccia. L'Ecopelliccia è un capo che dà un'importanza alla figura della donna, la rende moderna e attuale. Io voglio mostrarvi due capi che sono arrivati, gentilmente offerti dagli store online che seguono la mia moda. Vi mostro questa bellissima Ecopelliccia color panna, molto morbida e soffice, insomma sembra proprio di indossare una nuvola, che mi ha attirato tantissimo per questo fantastico cappuccio con le orecchie da orsacchiotto. Vedete? Bellissima, morbida, che io indosso normalmente da sola quando passo le mie giornate in montagna perché sapete benissimo che sono una grande appassionata della montagna, quindi in mezzo alla neve è un capo fantastico da sfoggiare. Dopodiché vi voglio mostrare un altro capo fantastico. Questo è arrivato appunto da Sammi Dress, è Sammi Dress che veste la mia moda. L'altra Ecopelliccia fantastica che ci tengo tanto a mostrarvi è questa, è questa in rosa pesca, bellissima, con il pelo più lungo, che è arrivata ed offerta gentilmente dal famoso store online Zafful. L'ho scelta perché proprio mi ha attirato per il colore prezioso, non un rosa troppo aggressivo, più corta, più da città oserei dire. Siccome che io mi diverto tantissimo con i capi del mio armadio a giocare con la moda, vi mostro un modo alternativo di come indossare questi due pellicciotti, anche perché sono magari a volte un po' più leggeri, per cui se vogliamo andare a pesantire, sapete bene che a me piace sovrapporre. Per cui la mia proposta di oggi è proprio di indossare i due capi sovrapposti. Metto nella parte, diciamo, sotto il pellicciotto, quello panna più lungo, con il cappuccio. E poi vado a sovrapporre questo pellicciotto più corto, più corto, con il pelo più lungo. E si va a creare appunto un gioco di sovrapposizioni. Lasciamo fuori il cappuccio, naturalmente, che si veda bene, che faccia anche un po' da colletto intorno al collo fasciante. E andiamo a creare un unico pellicciotto di colore. Fantastico, di grande effetto, vi assicuro, perché l'ho già sfoggiato per strada e sono ammirata e notata. Vado a completare il tutto con uno splendido cappellino in pelle nera. Poi, se volete, accosterete la vostra borsettina. Et voilà, il gioco è fatto. Da Babaluce tutto, un abbraccio, alla prossima!